Buongiorno a tutti e bentornati per un nuovo video sul mio canale Easy Trading Partiamo con un aggiornamento dei mercati Allora, cosa sta succedendo? Questo è il grafico del Nasdaq e come potete vedere siamo in questo momento i mercati non hanno ancora aperto perché sono più o meno le 2 del pomeriggio e in questo momento il Nasdaq ci dice che siamo a meno 1,56% sul future quindi ci aspetta un'apertura molto 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 interessante da un punto di vista puramente negativo Allora, finalmente a quanto pare comincia a scendere qualcosina però adesso andiamo per ordine e capiamo cosa sta succedendo Innanzitutto, ieri c'è stato il FOMC della Fed a fine serata, quindi intorno alle 8 Paolo ha fatto la sua conferenza stampa dove in pratica non ha detto niente di nuovo ha confermato la strada presa dalla Fed ha detto che continueranno gli aiuti continueranno a mantenere i tassi a questi livelli non pensano di doverli abbassare ulteriormente ma soprattutto non pensano di doverli alzare non prima del 2022 e fin qui niente di strano fatto sta che probabilmente i mercati comunque scontano sempre queste notizie con un certo diciamo con un certo clamore o con un certo anticipo anche se volete quindi in qualche modo hanno deciso comunque di girare i mercati ma perché non solo per le parole di Powell che comunque hanno messo qualche dubbio nelle orecchie degli investitori ma più che altro perché la situazione negli Stati Uniti per quanto riguarda la pandemia è ben lontana dall'essere risolta ma è ben lontana dall'essere risolta anche in altre parti del mondo però ieri c'è stato un aumento dei contagi soprattutto in Texas e in Florida un aumento anche abbastanza corposo quindi questa fase 2 molto forzata che soprattutto diciamo è stata anche un po' amplificata poi dalle proteste che ci sono state nelle grandi città come sapete per la morte di Floyd quindi molti assembramenti molti cortei quindi molto probabilmente molte regole inerenti la diciamo la cautela sono venute meno quindi ci sta che i contagi possono in qualche modo aumentare però quindi detto questo i mercati in questo momento diciamo stanno scontando queste novità l'Europa è partita male abbastanza molto male prima guardavo il Futsmib era meno 2 qualcosa e anche il Dow Jones e l'SP mi sembrano che siano su quei livelli lì adesso li guardiamo un attimo insieme guardiamo un attimo qua il future tanto eccolo qua guardate qua è un bel candellone rosso guardate che come ha ripreso a scendere vedete sembrerebbe che insomma stia iniziando un nuovo momento di flessione ok qui siamo a meno 2% quindi è molto probabile che vedremo un continuo di questa flessione iniziata qualche giorno fa sull'SP e poi diciamo mitigata molto dall'impennata del Nasdaq che grazie alle sue FANG e ai suoi colossi tecnologici ha ritardato questo momento di discesa quindi ci può stare una discesa una discesa che potrebbe portare i primi livelli intorno al 3000 per quanto riguarda lo standard in pura quindi staremo a vedere se arriverà su questi livelli questo è il primo supporto che vediamo in realtà oltre ai vari supporti dovuti alle medie però questo è il primo supporto grande che è 3000 poi vediamo se da qui sarà soltanto un ritracciamento di breve e da qua posta di imbalzare per poi tornare verso l'alto oppure se ci sarà qualcosa di più pesante di più corposo se questo è l'inizio di un ritracciamento ce lo andiamo a vedere guardate lo disegniamo subito con Fibonacci e se lo prendiamo da qui sotto allora togliamo innanzitutto i volumi che sono abbastanza fastidiosi da vedersi ok se lo prendiamo da qui sotto e andiamo più o meno a segnarlo qui nello swing high vedete che di spazio per scendere ce n'è parecchio da questo livello qua a questo livello qua vedete che volendo se fosse un ritracciamento tecnico e dovesse rispettare i livelli di Fibonacci ne avrebbe di strada però qui c'è la quota 3000 che è un primo un primo supporto e comunque non è detto che questo accada perché i mercati potrebbero anche fare una breve flessione quindi scontare leggermente diciamo le giornate di risalita che ci sono state e dopodiché continuare in qualche modo la loro bull run questo è davvero difficile dirlo per il momento però diciamo che un po' di indizi fanno qualche indizio in più ci dà la prova che i mercati stanno cominciando a smollare un pochino e questo direi che è assolutamente fisiologico allora torniamo un attimo sul Nasdaq eccolo qua e poi oggi ci sono dei dati abbastanza interessanti abbastanza importanti che molto probabilmente faranno muovere un pochino gli indici e andiamo a vederli insieme questo è il calendario allora oggi abbiamo come il solito il giovedì abbiamo le richieste di disoccupazione continua e le richieste iniziali di disoccupazione continua adesso quelle delle quelle della Russia o quello della anzi non è della Russia ma quelle della della Kenya non ci interessano forse non era il Kenya però vabbè detto quello allora richieste di disoccupazione continua vedete la settimana scorsa eravamo a 21 milioni e 487 mila previsto 20 milioni mentre per quanto riguarda le richieste iniziali di disoccupazione ci abbiamo un atteso di 1500 quindi in positivo un milione e mezzo un milione e mezzo contro un milione e otto della settimana scorsa e poi abbiamo l'indice dei prezzi di produzione che dovrebbe essere intorno allo 0,1 dal meno 1,3 della settimana scorsa staremo a vedere guardiamo un attimo le richieste iniziali di disoccupazione come si sono comportati in questo grafico come potete vedere c'è stato questo balzo appena è partita il lockdown negli Stati Uniti per poi piano piano andare sempre più scemando vedete sono sempre diminuite settimana per settimana e quindi c'è in qualche modo da attendersi che queste richieste siano effettivamente in linea con questo valore o addirittura siano anche più basse staremo a vedere mentre quanto riguarda invece le richieste queste qua continue di disoccupazione continua come potete vedere sono ancora abbastanza alte vedete siamo partiti piano piano abbiamo fatto dei salti sempre più alti siamo arrivati intorno ai 25 milioni poi piano piano si sono abbassati ma sono rimasti sempre sopra i 20 milioni e quindi c'è da scommettere che rimarremo comunque sopra questo livello qua quindi staremo a vedere o usciranno dei dati estremamente positivi che potrebbero in qualche modo allora far cambiare strada agli indici altrimenti oggi non usciremo diciamo da questo rosso che si vede un po' sui mercati diamo un'occhiata invece all'oro perché l'oro cosa ha fatto allora l'oro guardate qua cosa ha fatto ha fatto una bellissima cavalcata qua e oggi siamo andati a chiudere una posizione per raggiungimento del primo take profit qua intorno a 1.740 ha fatto una bellissima cavalcata dal supporto che vi avevo segnalato qualche giorno fa ed è arrivato qui e qui ho chiuso la mia posizione adesso sta ritracciando quindi significa che chi ha fatto questa cavalcata qua sta portando a casa ovviamente i guadagni è andato ad appoggiarsi su questa media a 19 periodi a 1.721 e adesso staremo a vedere se nel corso della giornata con l'apertura dei mercati americani avrà la forza per superare 1.740 e portarsi verso i primi obiettivi che sono 1.780 1.8 diamo un'occhiata anche a euro gbp perché su qui qui vi avevo segnalato la possibilità di un ingresso che ho fatto qua nei giorni scorsi di un ingresso long più o meno a questi livelli qua con un tp di breve termine che è intorno a 0.90 per il momento come potete vedere scusate come potete vedere andiamo sul grafico a due ore lo vediamo un pochino meglio per il momento come potete vedere l'analisi che abbiamo fatto è corretta quindi ha preso la strada giusta e sta continuando a salire adesso speriamo in giornata di vederlo arrivare qua altrimenti dovrebbe poterci arrivare entro domani e detto questo un'altra cosa interessante possiamo andare a vedere euro usd perché dopo le parole di Powell di ieri sera come vedete ha avuto una forte indecisione allora andiamo un attimo sul giornaliero eccolo qua come vedete ha avuto momenti di indecisione ha fatto uno spike verso l'alto arrivava a toccare 1.40 addirittura 1.41 1.42 poi è tornato indietro oggi ha aperto intorno sempre vicino agli 1.40 poi è tornato ancora indietro adesso siamo intorno agli 1.35 1.34 quindi significa che il dollar sta un pochino riprendendosi anche se la debolezza è ancora abbastanza forte qui io ho rischiato sto rischiando uno short in realtà da questi livelli qua e un rischio abbastanza abbastanza alto perché in questo momento diciamo il dollaro non è particolarmente forte però l'idea che possa riprendere una strada di forza ci può essere per arrivare a meno a un take profit molto molto corto intorno agli 1.12 vedete 1.12 qui ecco o poco più giù intorno agli 1.11 vedremo se effettivamente sarà così un'altra coppia interessante euro a udi che vi avevo segnalato nei giorni scorsi perché eravamo andati a tradare il rimbalzo qua e vedete che continua questo rimbalzo vedete da questi minimi qua sotto andiamo un attimino a farlo vedere un po' meglio da questi minimi arrivati qua minimi storici quindi minimi di periodo ma minimi già toccati in altre volte continua il rimbalzo e continua in questo momento la risalita vedete siamo a 1.64 e 2 dove può arrivare il primo target è per un momento 1.64 e 75 dopodiché il secondo è intorno a 1.65 e 67 e poi staremo a vedere questo contro il dollaro australiano è una battaglia molto 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 dura perché il dollaro australiano è veramente forte e quindi staremo a vedere guardiamo invece visto che abbiamo parlato del dollaro come si sta muovendo prendiamo questo qua si va bene e vedete eccola qua vedete guardate dopo la discesa di ieri con questo spike in cui è andato a toccare questi minimi qua il dollaro oggi si sta riprendendo un pochino quindi sembra che malgrado le parole della Fed malgrado tutto quanto il dollaro possa riprendere ancora un pochino di forza visto così potrebbe anche tentare di risalire un po' e andare a cercare di toccare diciamo queste medie qua tra la 21 e la media a 200 periodi per poi tornare indietro perché vedete che ha fatto un sacco di minimi qui sempre più bassi anche se qua ha fatto questo doppio minimo che era questo doppio massimo qui che non è andato a rompere nessuna struttura e poi è tornato indietro quindi ci sta che qua ci possa essere magari un ritracciamento anzi magari lo guardiamo anche con Fibonacci se questo possa essere più o meno un ritracciamento vediamo un po' da qui potrebbe arrivare diciamo più o meno a questi livelli qui vedete siamo intorno a questa zona qua quindi ci può anche stare che il dollaro riprenda un po' di forza e torni a salire per il momento diciamo non c'è molto altro da dire perché guardiamo giusto per curiosità Bitcoin che ieri si era riportato vicino ai 10.000 vedete poi oggi invece è tornato di nuovo sotto è sempre in un momento molto molto laterale molto instabile però continua piano 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 una leggera risalita e poi staremo a vedere se domani e nel weekend si potrà muovere un pochino più forte verso l'alto ma per il momento diciamo è ancora abbastanza in fase di lateralizzazione quindi punto probabilmente si stanno accumulando delle posizioni qui che siano poi a rialzo o ribasso questo è un po' più difficile da dire o da sapere guardiamo invece una cosa visto che ci siamo andiamo a vedere le compagnie aere che stanno subendo delle belle dei bei contraccolpi perché guardate l'ustanza che era quasi arrivato a toccare il mio take profit che avevo ipotizzato intorno ai 13 è arrivato qui intorno ai 12.50 e poi pam è crollato giù con due discese enormi e anche stamattina se ne aveva aperto con un meno 10% mi sembra meno 11 adesso piano piano sta recuperando anche qua se ce lo andiamo a misurare un attimino con fibonacci da qui a qui vediamo che è andato a toccare il livello di 0.52 qui quindi proprio la metà dopodiché è toccato anche la media a 21 periodi e poi ci ha rimbalzato sopra quindi vedete che tecnicamente ha toccato un livello abbastanza interessante quindi qui potrebbe anche starci che possa continuare la sua risalita rompere questo massimo di periodo e magari andare a toccare la media a 200 periodi prima di avere un nuovo ritracciamento e poi ripartire di nuovo questo però ovviamente è sempre subordinato alla ripresa delle attività aeree a pieno regime ok stessa storia andiamo a vedere anche per Aston Martin che nei giorni scorsi l'abbiamo trattata diverse volte vedete che negli ultimi tre giorni qua abbiamo un trade aperto come potete vedere che in questo momento sta tornando indietro e quindi a livello didattico però questo trade qua lo lascio aperto perché voglio vedere se effettivamente questo rischio calcolato ce lo andremo a prendere oppure se riprenderà invece la sua risalita molto ambiziosa verso una quota molto molto alta che è 125 però vedete qua anche qui dove si è saliti molto nelle ultime settimane ci sono le prese di profitto e questo è normale direi guardiamo anche delta tra le compagnie aeree ma sto martin ovviamente l'automotive guardiamo delta che sta facendo che ha fatto la stessa cosa di lufthansa e anche oggi visto il pre market dovrebbe aprire intorno a questi valori qua perché ho visto che segna già un meno 7 meno 8% quindi ci sarà da aspettarsi lo stesso movimento di lufthansa andiamo invece a parlare di tesla molto volentieri perché ieri tesla ha fatto il record assoluto rompe i 1000 dollari e si porta a sopra 1025 chi l'avrebbe mai detto in pochi l'avremmo detto io stesso avevo i miei dubbi ho ancora dei dubbi su tesla ma non perché non mi piaccia l'azienda io a me piace l'azienda e sono sicuro che Elon Musk sia un genio sul valore di questa azienda ho dei dubbi soprattutto perché 1000 dollari per un'azione di questo tipo mi sembrano veramente veramente tanti però fatto sta che Tesla ha veramente fatto un recupero molto più ampio anche più ampio del Nasdaq se vogliamo e quindi bravo Elon Musk e bravi chi sta dentro su Tesla ma dentro da un bel po' di tempo quindi non dico da qua ma da molto indietro quindi da qua da quando misurava 100 100 180 insomma quindi per il momento diciamo è tutto e facciamo magari un aggiornamento più tardi a chiusura dei mercati quando vedremo come si saranno comportati anche i dati usciti sulla disoccupazione e sui prezzi della produzione industriale spero che il video vi sia stato di aiuto e come sempre se vi piacciono i miei video cliccate sulla campanellina per rimanere sempre aggiornati iscrivetevi al canale e come sempre stay tuned and finger crossed ciao a tutti